Sa! Sa! Chi è venuto qui perché dopo si beve e si mangia? Eccoli là! Allora, quelli che hanno alzato la mano adesso non bevono e non mangiano. Buonasera a Marche Show da Matelica, sigla! Si vive bene perché facciamo tanta raccolta differenziata, perché l'aria è buona, perché c'è un prodotto culturale turistico di eccellenza. Ma chi è il capo di questa banda di sciamannati? Andrea Pecchia! Eccolo qua! Viva la Thunder!